un etf covered call è un tipo di fondo negoziato in borsa il classico etf exchange traded fund che investe in un portafoglio di azioni o altri titoli e vende opzioni call su questi titoli al fine di generare reddito per gli investitori in una strategia col coperta appunto cover call l'etf detiene una posizione lunga long per cui nei titoli sottostanti e vende anche opzioni call su questi titoli il che conferisce all'acquirente il diritto di acquistare i titoli a un prezzo predeterminato il prezzo di esercizio in una data futura i dividendi sono succosissimi ma ne vale veramente la pena cerchiamo di capirlo oggi in questo video e nel caso quali siano le possibili alternative o comunque quali siano i possibili etf presenti sul mercato italiano ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmi io come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aieff ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi libro del quale trovi il link qui sotto nel caso tu lo volessi acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da adebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole dove il link sia per la versione cartacea che per quella kindle appunto qui sotto nella descrizione di questo video come guadagna l'etf vendendo opzioni call l'etf guadagna premi che possono fornire un reddito aggiuntivo a tutti gli investitori tuttavia questa strategia limita anche il potenziale rialzo dei titoli sottostanti perché perché se i titoli superano il prezzo di esercizio il cosiddetto strike price l'etf potrebbe essere obbligato anzi lo è quasi sicuramente a vendere i titoli all'acquirente dell'opzione call a un prezzo inferiore al prezzo del mercato corrente per cui gli etf cover call sono spesso utilizzati dagli investitori che desiderano semplicemente generare reddito pur mantenendo una certa esposizione al potenziale apprezzamento dei titoli sottostanti che però in ogni caso è limitata tuttavia potrebbero non essere adatti a chi cerca il massimo apprezzamento del capitale o che hanno una bassa tolleranza al rischio infatti è importantissimo capire che non sono i classici etf cui siamo abituati ma portano un colorario di ulteriori rischi e bisogna capire bene se i potenziali benefici di acquistare questi etf possono coprire tutti i rischi aggiuntivi che si vengono a creare come una qualsiasi strategia di investimento anche gli etf cover call presentano determinati rischi di cui tutti noi investitori dovremmo stare attenti perlomeno almeno esserne consapevoli prima di investire nell'enco alcuni qui ma non sono assolutamente tutti non sono esaustivi prima di tutto il potenziale di rialzo è limitato la vendita di opzioni call può limitare i potenziali guadagni dei titoli sottostanti se il prezzo dei titoli aumenta in maniera considerevole oltre il prezzo di esercizio l'etf può essere obbligato a vendere i titoli all'acquirente dell'opzione call a un prezzo che è inferiore al prezzo del mercato corrente certo si incassano i premi che fa avere delle distribuzioni generose ma scordiamoci quasi completamente il cosiddetto capital gain poi abbiamo il rischio di mercato gli etf cover call sono soggetti al rischio di mercato il che significa che il valore dei titoli sottostanti può diminuire considerevolmente a causa delle condizioni di mercato o di altri fattori al di fuori del controllo di quello che può essere la normale gestione di un etf potremmo incassare i premi ma se le aziende vanno a fare la fine di svb c'è poco da fare poi abbiamo anche il rischio di credito esiste il rischio che la controparte dell'opzione call dell'etf non sia in grado di adempiere ai propri obblighi il che potrebbe comportare una perdita per l'etf anche se questa è una situazione molto difficile non dobbiamo mai mettere in conto che sia impossibile e anzi bisogna essere completamente consapevoli per evitare legnate non molto simpatiche poi abbiamo il rischio di interesse gli etf cover call possono essere sensibili alle variazioni dei tassi di interesse che possono influire sul valore dei titoli sottostanti e sui premi ricevuti dalla vendita delle opzioni call abbiamo anche un rischio di concentrazione gli etf cover call possono essere concentrati in un particolare settore o in gruppo di titoli il che può aumentare il rischio di perdita in caso di performance cadenti di tali titoli questo perché non tutti i titoli hanno delle opzioni disponibili e in funzione della strategia dell'etf possono esserne presenti solo in alcune tipologie di opzioni che non in tutti i casi possono essere quelle ottimali è importante che tutti gli investitori considerano attentamente questi rischi e comprendano i potenziali vantaggi e gli svantaggi che gli etf che vanno a fare questa strategia di cover call vanno a eseguire prima di investirci come dicono in inglese non è tutto doom and gloom ma ci sono anche delle cose positive da tenere in considerazione quando si vanno a valutare questi etf cover call infatti questi vanno a offrire diversi vantaggi potenziali agli investitori fra cui anche in questo caso nelle incolcuni che non sono totalmente in maniera esaustiva prima di tutto la cosa più importante c'è generano un cash flow un reddito il vantaggio principale di etf cover call è la generazione di reddito costante vendendo opzioni call sui titoli sottostanti l'etf guadagna premi che possono fornire un reddito aggiuntivo per gli investitori e questo come dicevo prima genera un sostanzioso cash flow che non fa mai schifo a nessuno poi abbiamo anche una protezione dai ribassi perché l'etf detiene una posizione lunga nei titoli sottostanti i premi guadagnati dalla vendita delle opzioni call possono fornire un grado di protezione dal ribasso nel caso in cui il valore delle azioni che sono presenti nel portafoglio dell'etf diminuisca ovviamente nulla si può fare nel caso in cui il titolo vada picco l'azienda vada in mancarotta ma il rischio ci sarebbe comunque anche se noi detenessimo solo le azioni singole le singole posizioni abbiamo anche una minore volatilità gli etf cover call possono presentare una volatilità inferiore rispetto agli etf azionali tradizionali perché il reddito generato dalla vendita delle opzioni call può aiutare a compensare le perdite che vengono procurate dai titoli sottostanti nel caso scendessero certo non si elimina il problema ma comunque un po lo riusciamo a calmerare abbiamo poi la diversificazione perché gli etf cover call come possono essere troppo concentrati possono anche fornire esposizione a un portafoglio diversificatissimo di azioni o di altri titoli che possono contribuire a ridurre il rischio diversi settori diverse aziende diverse nazioni diverse dimensioni per cui quasi come un etf world possiamo ridurre il rischio correlato a un singolo soggetto paese o settore abbiamo anche una certa efficienza fiscale poiché il reddito generato dalla vendita di opzioni call è considerato una plus valenza può essere tassato a una liquida inferiore rispetto ad altre tipologie di reddito ovviamente questo dipende sempre da dove l'etf ha la sua residenza è importante notare che mentre gli etf con cover call offrono diversi vantaggi potenziali presentano anche alcuni rischi e svantaggi come elencato prima e per cui bisogna assolutamente ponderare per bene questi fattori e se non se ne capisce o se non se ne comprende appieno la dinamica meglio lasciar perdere o consultarsi con un consulente finanziario esperto nel settore esistono numerosissime tipologie di etf cover call se vengono scambiati nelle principali borse valori di tutto il mondo soprattutto in stati uniti europea asia alcuni questi etf potrebbero non essere disponibili per gli investitori italiani tramite broker locali o piattaforme di investimento è importante notare che la disponibilità può variare a seconda della specifica piattaforma appunto del vostro broker la maggior parte di questi etf cover call sono presenti purtroppo negli stati uniti mentre per noi italiani attualmente c'è un'unica scelta che è il global ex nasdaq 100 cover call etf vi lascio sia l'easing che il ticker qui sotto in descrizione comunque per essere veloce il ticker è q y l d questo etf replica l'indice cbo nasdaq 100 buy right l'indice in questione replica le performance di una opzione call coperta appunto di una cover call sull'indice nasdaq 100 per cui su tutto l'indice un'opzione call coperta combina una posizione lunga di un titolo con la vendita di opzioni call su questo titolo è un etf nato da pochissimo con una distribuzione mensile ha solo 6 milioni di euro di asset under management per le distribuzioni europee mentre negli stati uniti d'america ha una storia molto più lunga e antica e per cui ha quasi 7 miliardi di dollari di asset under management il suo dividendo negli states è del 13 punto 75 per cento ma al momento essendo nuovo fiammante non è riportato ancora nessun riscontro sul sito ufficiale dell'emittente global ex per quanto riguarda il dividendo europeo essendo le posizioni le stesse ed essendo le stesse operazioni possiamo immaginare che i rendimenti dal punto di vista dei dividenti siano simili ma è un prodotto fresco fresco non è ancora uscito dal frigo non so se ci investirei e soprattutto quanto al di là che prima di investire in qualsiasi etf è importante che gli investitori considerano attentamente i propri obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e la volatilità e poi si consultino anche con un consulente finanziario nel caso non abbiano tutta quella formazione però poi se un particolare etf è appropriato o meno alle proprie circostanze deve essere comunque studiato a fondo inoltre qualunque investitore deve essere consapevole delle commissioni e delle spese associate a un qualsiasi etf in quanto possono influire sul rendimento complessivo dell'investimento e in etf di questo tipo facendo compravendita di opzioni possiamo un punto immaginare che i costi siano più alti bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video oggi come non mai sei seguito il contenuto della settimana scorsa chiedo un tuo gradimento un pollice in su ti chiedo per fuori di farmelo capire e di farlo capire anche all'algoritmo di youtube più cresco e più ho possibilità di creare un cash flow che mi permette di mantenermi nel mentre cerco di portare avanti questa auto imprenditorialità purtroppo come ben sapete sono rimasto senza lavoro lasciami un commento dammi le tue impressioni in merito se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo iscriviti e clicca la campanella delle notifiche così ogni nuovo contenuto ti sarà notificato fammi sapere cosa ne pensi di questo etf lo conoscevi lo avevi in watchlist lo hai in portafoglio aspetto i tuoi commenti e le tue considerazioni bene anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video ciao a presto